Tutti i presenti, e ecco, però ora dovremmo portare la metà di un'altra, perfetta. Ci sono altre interazioni in cui vi posso scendere alla mutazione. Posso andare in lavoro, consiglio Luigi. Quindi la parola al consiglio Luigi. Presidente, con i giorni a Luigi. No, noi confermiamo, ci dispiace di questa, diciamo, doppia candidatura, se lo non ci sono, essendo il vicene Presidente, sempre stato come vado di eviglio democratico rispetto all'opposizione. Ci dispiace di non aver trovato una sintesi, la vostra interna, e quindi confermiamo la candidatura del Consiglio Comunale al plato escogido, visto che ovviamente la maggioranza non dovrebbe entrare almeno di questa, di queste elezioni, lo spieghiamo che la cosa sarà da rimane all'interno del vostro decisione. Grazie. Allora, il consigliere che ti passano? Grazie Presidente, io, il Partito Democratico, pregato che l'opposizione, nonostante i giorni percorsi della prima, e la seconda votazione non è riuscita a fare l'intesi e proporre il Consiglio Comunale una sola persona al Vicepresidente del Consiglio. In realtà questo è un segno non positivo. E mi riavaccio a tutti i Consigliere del Solità, per la Massimo Iubice, che poi hanno rappresentato la confusione, diciamo, politica e confusione comunale di prima e data di valutazione, per cui io credo, mi auguro, che la maggioranza rispetti le indicazioni del, diciamo, del Consiglio soviparne dal Consiglio del Unice, e come faccio il modo che la scelta della Vicepresidenza, che un ruolo che fette esattamente all'opposizione, possa essere determinata esclusivamente all'opposizione. Grazie. Mi scusi, ma se c'è anche una reazione di voto, io posso, pensavo che non sia che in questo modo, quindi in virtù di questa parte, in questo modo, in questo modo, in questo modo, non è che 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 in questo modo. Perfetto. Allora, quando ci sono altri interventi, noi colleghiamo alle votazioni del Vicepresidente. Perfetto, quindi non ci stanno più i nomi con questo lavoro, insomma, i consiglieri profese e i consiglieri pubblici. Già pubblici pubblici e i personaggi pubblici. Ora, conoscendo già la metodologia, secondo uno quanto l'esempio, sono disciate, votate nella prossima capina e identificate nel mondo. Perfetto, allora, insiori e iugeni pubblici. Perfetto, grazie a tutti. Perfetto, grazie a tutti. Innanzi promisiampsioni pubblici. Grazie a tutti. 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 Sono... a tutti. 5 schede bianche. Grazie a tutti. a tutti.